È la partita più rischiosa della vostra vita. Vi servono degli assi. Per vincere non vi basterà centrare una scala o azzeccare il colore. Dovrete imparare a investire nel modo giusto. E se sarete abbastanza fortunati, con ogni puntata potreste fare il botto. Mesdames e messieurs, preparatevi al grande ritorno dell'azzardo più edificante della TV. Flip that house affari immobiliari, la nuova stagione. Questa sera alle 22.10 su Travel & Living. Ora do un'occhiata al menù. Gradisce una zuppa di aragosta? È fredda. I nostri calamari sono deliziosi. Sono salatissimi. Deve provare i bocconcini di pollo in crosta. Oppure uno dei nostri freschissimi hamburger. Ecco un attimo. Ma la nostra specialità è la paella. Gliela consiglio. Fa schifo. Ma non gli va mai bene niente. Nemmeno nella nuova stagione di Cucine da Incubo USA. Da martedì 7 febbraio alle 23.05 su Real Time.